Gigi a tutti ragazzi, sono Eline Queste, Zur presenta il settimanale di casa Bungie, rubrica suddivisa in due parti dove nella prima vi parlo delle ultime novità di Destiny e nella seconda provo a darvi qualche consiglio per Zur, il venditore di esotici. Dunque, prima di cominciare, Bungie sembra che sarà presente al PlayStation Experience che dovrebbe cominciare domani attorno alle 19, magari andarsene in giro su Twitch per quell'ora non sarebbe un delitto, si dice che ci sarà qualche annuncio per quanto riguarda Destiny perché alcuni vociferano l'annuncio di Destiny 2, ma insomma io sono come San Tommaso quindi se non vedo non credo, chissà, forse annunceranno le gare degli Astori, sono tendenzialmente pessimista in queste occasioni, lo so. Di notizie vere invece, il ritorno dello stendardo di ferro martedì 6 dicembre a partire dalle 19 sino a martedì 13 dicembre alle 21, si giocherà in modalità frattura. Cosa c'è in palio a questo giro? Il fucile da ricognizione che personalmente mi manca però insomma a me sono sempre piaciuti e di questo comunque ne parlano abbastanza bene almeno per quello che ho visto in giro. Ed infine il fucile a fusione. Per quanto riguarda le armature abbiamo elmi e corazze di classe rispettivamente per cacciatori, titani, bellissimo l'elmo ma son di parte ed infine stregoni. E a proposito di PvP, per quelli di voi che amano la competizione MLG ha annunciato l'arrivo dei tornei per le regioni americane e per quelle europee. Potete seguire il link direttamente dal settimanale di Casa Bungie per saperne di più. Ci sono dei premi in denaro in palio, come è lecito aspettarsi del resto. Se vi sentite all'altezza, prego, accomodatevi. Chiarimento veloce, ieri alle 17 c'è stata una manutenzione programmata su Destiny. Alcuni di voi mi hanno anche scritto chiedendomi perché Destiny non andasse. Beh, ecco spiegato il perché. Semplicemente manutenzione, non è stato cambiato nulla. Beh, mi aspettavo a dire il vero l'annuncio delle gare degli Astori questa settimana ma se il mio pessimismo dovesse vincere forse lo avremo durante il PlayStation Experience. Altrimenti presto, visto che DJ alla fine dice dopo ancora, cioè dopo lo standardo, ci saranno altre cose a cui giocare. Se possedete i signori del ferro, siete già invitati alla prossima festa che il live team sta per lanciare. Rimanda tutto la prossima settimana. Se invece il mio pessimismo cosmico leopardiano dovesse uscire fuori semplicemente niente annunci e ci si proietta sui rumor riguardo ad un nuovo wipeout, magari, un The Last of Us 2 e compagnia cantante, sempre rumor del PlayStation Experience. Speriamo che il mio pessimismo cosmico non venga fuori a sto punto perché c'è, credo, bisogno di qualche novità su Destiny, no? Bene, è tutto per le news, ora passiamo all'analisi di Zur che non sembra aver cambiato moto rispetto alla settimana scorsa, no? Cimiero di alfalupi e vesti del morso vuoto, mi sa che se li hai dimenticati un attimino lì. Comunque, schinieri, peregrini, armatura a gamba per titani e assaltatori che permette a spallata caricata di infliggere danni aggiuntivi quando viene eseguita in aria. Aumenta disciplina o forza, aumenta la quantità di munizioni trasportabili per fucili a fusione o per le mitragliatrici e aumenta l'agilità per 5 secondi dopo una doppia uccisione ad arco. Onestamente non sono mai stato un grande fan della spallata caricata, l'ho utilizzata spesso solo per muovermi più velocemente. Comunque non credo sia poi così pericolosa o fastidiosa come era un tempo, quindi penso sia un pezzo che potrebbe, come si dice, garbare solo agli utilizzatori seriali di questa abilità. Io preferisco però virare su altri pezzi. E di nuovo, cimiero di alfa lupi, armatura a torace per tutti i cacciatori dove le super generano più sfere e si può rianimare ed essere rianimati più in fretta. Aumenta forza intelletto, aumenta la quantità di munizioni trasportabili per cannoni portatili o armi da supporto, riduce i danni subiti dalle braci del vuoto o aumenta l'armatura di una sottoclasse da vuoto. Credo già si vada meglio a sto giro, non è più, secondo me, ripeto, il pezzo must per le prove rispetto a come ero un tempo. Medio, pezzo medio buono ma non eccezionale, secondo me. Vesti del morso vuoto, forse ancora una volta vincitore della settimana, torace per stregoni camminatori del vuoto che permette di rientrare in gioco con l'energia delle granate piena e fornisce un altro dardo assionico. Aumenta disciplina o forza, aumenta la quantità di munizioni trasportabili per i fucile ad impulsi o per infusione e riduce i danni subiti dalle braci dell'arco o aumenta l'armatura mentre si utilizza una sottoclasse del vuoto. Credo di poter consigliare ancora il pezzo, quei dardi assionici sono, secondo me, ancora fastidiosi. Arma della settimana, il fucile a pompa, quarto cavaliere, ha danni ad arco e possiede la modalità di fuoco automatica e spara piuttosto velocemente, direi. L'ultimo colpo di un caricatore infligge danni aggiuntivi e le uccisioni potrebbero, quindi non è sicuro, fornire munizioni aggiuntive nel caricatore. Possiamo decidere di aumentare stabilità o gittata o di diminuire il tempo di ricarica. Sì, la gittata è quella che effettivamente, diciamo, che non rientra forse nella schiera delle armi top da usare sia in PvE o PvP, un fucile divertente ma che, appunto, non credo rientri nella lista dei competitivi nelle due discipline di Destiny. Quindi, se vi manca e siete dei collezionisti, prego, se cercate un fucile a pompa competitivo in PvP, forse andrei su altre spiagge. Dai, in PvE è forse meglio rispetto al PvP, sicuramente è divertente da usare, a parte quel suono che non digerisco particolarmente, pare plasticoso, non so come spiegarlo. E a proposito di plasticosi giocattoli decori della settimana, non è un giocattolo per il fucile automatico Supercell a Zalo, è pallottola d'argento per la mitragliatrice Stella della Nemesi, che non ho, quindi ho piazzato quest'immagine che, appunto, rappresenta il decoro. Ah, mi stavo dimenticando, in gramma storico della settimana per gli elmi, ci fornisce un elmo esotico, ma hanno uno, quindi massimo 170 di luce. E questo è quanto, signori. Ora, come di consueto, passiamo al momento dei saluti, ricordandovi che pesco a caso. Saluto Assassin Mitico del clan The Crucible Runners, Matt Like, Alessandro Fazzolari, Il Black, Zeta Dave del clan The White Guardians, Mattia Sanna, Leonardo Perin del clan Team I Leggendari, Tommaso Maffei, che chiedeva come essere salutato, ecco ti servito, il clan Signori del Destino, e Vito Salvia. Bene, è tutto dunque, non ve lo chiedo se comprerete qualcosa da Zur, piuttosto vi invito a fare delle scommesse. Annuncio di Destiny 2? Roba nuova su Destiny? Zero totale? Bungie che fa affare semplicemente da spettatore? Poi, faccio le quote, eh? Io, come al solito, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, Alien vi saluta, love and peace, guardiani. That came from the moon.